Eccoci qua ragazzi ad un video interessante, parliamo della bolla del susino, vediamo cos'è, come si presenta e cosa c'è da fare quando vediamo le foglie arrotolate sul nostro susino. Allora facciamo chiarezza, sul susino abbiamo la bolla del susino che è la taprina pruni e attacca solamente il susino, mentre sulla bolla del pesco abbiamo la taprina deformante che attacca oltre il pesco anche le altre dupace, quindi attacca anche il mandorle, il ciliegio e l'albicocco. Detto questo quindi che c'è la bolla del susino e la bolla del pesco, i danni più o meno sono simili, come possiamo vedere attacca le foglie, le arrotola e attacca anche i frutti che poi si chiamano bozzacchioni. E vediamo subito che cos'è, allora innanzitutto quando, ai meno esperti sto parlando, quando vedete delle foglie arrotolate così innanzitutto controllate che non siano afidi, si fa presto a vedere, si apre una fogliolina, si controlla all'interno se ci sono dei piccoli insetti verdi o comunque marroncini, a quel punto sono afidi, dovremmo andare a dare un insetticida, quindi utilizziamo magari il piretro, in questo caso se lo volete utilizzare vi sto mettendo qui in alto il link sul video di come si utilizza. Una volta invece che avete appurato che non ci sono insetti all'interno delle foglie potete starci sicuri che è la bolla del susino. La bolla del susino è un fungo e come tutti i funghi si combattono con gli antifungini. Quando si presenta e perché si presenta? Innanzitutto si fa sempre prevenzione, quindi se ci siamo scordati a fare quei bei trattamenti a base di rami invernali, vi sto mettendo qui in alto il link, è molto probabile che la bolla sul susino può comparire, è difficile che attacchi il susino la bolla, è però può anche comparire soprattutto con stagioni come questa di quest'anno, anno 2019, siamo in primavera, piove continuamente, le temperature stanno intorno a quei 10-15 gradi ed umidità intorno a quei 50-60, per cui se c'è la bolla presente sulla pianta sicuramente lei si svilupperà e i danni sulle foglie sono questi qua che stiamo vedendo. Le foglie colpite si accartocciano, si arrotolano come se ci fossero gli afidi, ma gli afidi non ci sono, diventano vetrose e poi seccheranno e cadranno. Il danno è anche a carico dei fiori e dei frutti, i frutti si deformano, lo stiamo vedendo qua uno piccolino, diventano un po' storti, un po' a banana, si chiamano bozzacchioni, questi frutti poi quando iniziano a crescere vedrete che diventano gialli, sempre deformati, così poi a fine dello sviluppo di questo fungo si riempiranno di muffetta bianca e a quel punto vengono chiamate mummie, cadranno e quindi avremo anche una perdita di frutti, oltre che di debilitazione della pianta, perché tutte queste foglioline cadranno, non ci sarà sintesi clorofiliana e la pianta si debilita. Ma come posso trattare con un antifungino per cercare di salvare la mia pianta, o comunque cercare di fermare questo avvento della bolla sul susino? Non vi consiglio assolutamente a questo punto di dare rame, perché il rame sulla parta verde manderà in fitotossicità la pianta e poi anche in uno stato stressato e quindi la fitotossicità sarà ancor più accentuata, allora vi consiglio di fare un ciclo di tre trattamenti distanziati l'uno dall'altro di sette giorni con il bicarbonato di potassio, è sufficiente 3 grammi di bicarbonato di potassio da sciogliere in un litro di acqua e si tratta a fine serata la nostra pianta. In questo modo avremo fermato l'avvento del fungo sulle nuove foglie, nella speranza che poi fra una ventina di giorni, quindi finiti i trattamenti le temperature si saranno alzate perché sopra i 25 26 gradi la bolla si ferma da sola, questo fungo non prospera più sulla pianta. Prima di trattare il vostro albero o i vostri alberi fate sempre una prova di fitotossicità, ossia trattate solamente una porzione della vostra chioma, annotate gli effetti di fitotossici che possono essere appunto un imbrunimento delle foglie soprattutto ai bordi o alla punta, se invece le vostre foglie dopo 48 ore non presentano segni di fitotossicità allora potete trattare tranquillamente, se invece notate dei segni strani abbassate la dose del bicarbonato di potassio che state utilizzando e rifate un'altra prova su un'altra porzione di chioma in modo che trovate il punto giusto di quanto bicarbonato di potassio potete dare sulla vostra varietà di susino. Vi saluto, vi ringrazio, grazie dell'attenzione ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!